Un ritrovamento eccezionale ai piedi della cupola di San Gaudenzio. Siamo in via Bescapè e quelle che vi sto mostrando in esclusiva per Video Marsilio sono le immagini in anteprima di una domus di epoca imperiale. Sono molto emozionata nel mostrarvi tutto questo. Si possono riconoscere alcuni muri crollati nei lavori poi successivi in seguito alla decadenza della città romana e al successivo abbandono della città che la trasforma quasi in un luogo di contadio o di campagna. Qui sicuramente questa domus aveva un impianto di riscaldamento privato o forse anche addirittura un piccolo impianto termale. Quello che vi sto mostrando in questo momento è il forno, il forno di riscaldamento, di bruciatura. Si possono vedere ancora le parti annerite. Attraverso delle tubazioni venivano poi incanalati il calore e l'acqua calda in tutta la casa. Via Bescapè ci sta regalando davvero qualcosa di unico, qualcosa che poi è stato dimenticato, qualcosa che ora improvvisamente torna a farci capire quanto era importante la novara di epoca imperiale, quanto poi la decadenza da questo splendore di romanità abbia influito su quello che poteva essere il tessuto sociale, culturale ma soprattutto cittadino della nostra città. con un abbandono sostanziale anche del centro storico. Come potete vedere, come mi spiegava poc'anzi un archeologo, un addetto ai lavori, questo nero è il risultato di un abbandono e quindi di quello che veniva sostanzialmente gettato a livello proprio organico nei vari terreni.